Ciao a Youtube di Luigi D'Avo Caro Michele di Natalia Ginzburg Caro Michele è un romanzo di Natalia Ginzburg del 1973 Natalia Ginzburg è una scrittrice nata nel 1916 e morta nel 1991 su questa scrittrice noi abbiamo già fatto due video già presenti su Youtube uno, Inverno in Abruzzo, fa parte della raccolta Le piccole virtù, raccolta di racconti e narra dell'esperienza del confino infatti Natalia Ginzburg e il suo primo marito Leone Ginzburg, che poi è stato ucciso dai tedeschi a Roma in precedenza erano stati confinati cioè mandati in Abruzzo al confino dal regime fascista ecco, questo racconto narra di questa esperienza mentre il lessico familiare di Natalia Ginzburg è un romanzo, diciamo, autobiografico è una sorta di diario di quella che è la sua famiglia una famiglia piemontese appunto antifascista e quindi della formazione soprattutto di Natalia e anche delle frequentazioni che avvenivano in questa famiglia con personaggi di spicco della cultura antifascista in generale della cultura italiana della prima metà del Novecento su questo libro che abbiamo detto essere un libro del 1973 da questo libro è stato tratto questo libro ha ispirato un film un film del 1976 diretto da Mario Monicelli è che per il solo fatto di avere come protagonista nel ruolo di Mara Mariangela Melato è un film pregevole perché Mariangela Melato è in grado veramente di una giovane, giovanissima Mariangela Melato è stata in grado di rappresentare il personaggio di Mara con tratti veramente schietti vivi, vivaci queste sono le opere principali di Natalia Ginzburg l'ultima vediamo che è postuma e ce ne sono tante io vorrei solamente farvi notare una cosa che molte di queste opere hanno in sé la parola famiglia oppure un termine attinente alla famiglia abbiamo già visto il lessico familiare ti ho sposato per allegria famiglia, famiglia Manzoni eccetera abbiamo già visto anche come le due opere che ho già commentato su Youtube ci rappresentano un po' quello che è il modello di famiglia sia della famiglia di origine di Natalia Ginzburg sia della famiglia che lei aveva costruito e costituito con suo marito Leone Ginzburg tant'è vero che poi ha mantenuto il cognome d'arte di suo marito anche quando suo marito è morto poi si è risposata felicemente Natalia Ginzburg con un altro intellettuale però ecco ripeto ci sono delle opere evidentemente in cui la famiglia viene tratteggiata come un modello se vogliamo non è il caso di Caro Michele anche in questo romanzo diciamo che protagonista è la famiglia però se ne coglie tutta la crisi ecco ad esempio proprio a questo proposito leggiamo un brano tratto da un altro testo dove si chiede appunto Natalia che cos'è una famiglia? si chiede la scrittrice è un punto dove un gruppo di persone sta insieme in una casa o in una stanza o in una roulotte si formano fra loro legami che possono essere forti o deboli labili o tenaci da quel punto il bambino guarda il resto del mondo le famiglie possono essere pessime repressive ossessive o indifferenti disamorate o distratte o tossiche tarate verminose molto spesso lo sono però a un bambino sono necessarie questa riflessione di Natalia Ginzburg ci fa capire come sia comunque importante la famiglia per Natalia Ginzburg infatti questo brano è l'ultima difesa della famiglia così ci viene presentato in questa presentazione di powerpoint che abbiamo trovato sul web però proprio per il fatto che così pone così fiducia nella famiglia Natalia Ginzburg cioè li riconosce la necessità ecco dei legami familiari l'importanza dei legami familiari nel caso in cui come accade in questo romanzo di caro Michele invece questi legami siano così deboli labili appunto tossici anche da un certo punto di vista almeno rende questo romanzo molto amaro un po' pessimistico ecco questo romanzo fa parte di una sorta di trilogia di romanzi romani infatti la famiglia in questione è una famiglia romana e quindi è da accostare ad altri due testi che sono appunto altri due romanzi insomma ambientati a Roma che sono uno che si intitola proprio famiglia del 77 e l'altro la città e la casa dell'84 leggiamo ancora qualche altro brano per capire bene qual è il pensiero di Natalia Ginzburg sulla famiglia dice per esempio Titina uno dei suoi personaggi in La Segretaria sì le famiglie ogni famiglia era una specie di guscio chiuso adesso adesso non ci sono più le famiglie chi va chi viene le porte sono sempre aperte a tutti bisogna occuparsi del primo venuto come se fosse un tuo stretto parente gli estranei vengono in casa tua e fanno il nido ecco qui vediamo una rappresentazione più disincantata che è anche un po' quella che emerge dal romanzo caro Michele da caro Michele in poi infatti la Ginzburg non smetterà più di sventrare la famiglia e di farla a pezzi con gioia non meno selvaggia e tribale di quella spesa per consacrarla dice Garboli quindi un critico nella prefazione alle opere di Natalia Ginzburg che caro Michele rappresenta una svolta se prima come abbiamo visto in quei testi di cui abbiamo parlato la famiglia viene consacrata per la sua funzione formativa ad esempio e comunque per gli affetti il lessico familiare anche persino proprio il lessico quindi il modo di parlare è condizionato nella vita di ciascuno dalla propria esperienza familiare da adesso in poi da caro Michele in poi questa famiglia viene sventrata viene fatta a pezzi e viene quindi demolita nella sua essenza nella sua sostanza Roma è la città del presente la Roma di questi anni settanta questi anni ottanta è una Roma dimessa è una Roma borghese è una Roma disincantata in cui si realizza insomma perfettamente questa dissoluzione della famiglia abbiamo anche la dissoluzione se vogliamo della forma del romanzo del genere del romanzo la forma infatti di caro Michele è una forma epistolare cioè caro Michele si intitola così perché così comincia adesso vedremo il romanzo con la lettera che scrive la madre a Michele e diciamo che il 90% o più di questo romanzo è costituito da una serie di lettere la maggior parte delle quali sono scritte dalle sorelle di Michele a Michele oppure da Mara che è stata una sua donna a Michele pochissime sono le lettere in cui invece è Michele che scrive a loro e pochissimi sono i brani narrativi che fanno da tradunion tra una lettera e l'altra ecco ovviamente quando io penso almeno personalmente ai romanzi epistolari ho in mente grandi modelli come Jacopo Ortis Giovane Werther eccetera ebbene in quei casi avevamo di fronte dei grandi personaggi mentre i personaggi che vengono tratteggiati qua sono più piccoli e poi appunto vengono tratteggiati in una maniera molto più vaga e confusa cioè sono chiari e netti i ritratti di Jacopo Ortis o del Giovane Werther nei testi nei romanzi episcolari di Foscolo e di Goethe ovviamente siamo anche in un secolo completamente diverso quasi 200 anni prima mentre il personaggio di Michele risulta sfumato quasi come se in realtà queste donne che scrivono a Michele più che altro scrivessero a se stesse perché sanno forse che il destinatario in realtà non le ascolterà o non le ascolta comunque con attenzione o non le legge insomma con attenzione queste lettere ecco l'arco di tempo della vicenda va dall'inverno del 1970 all'estate del 1971 sono anni caldi come ben sappiamo e infatti dopo le rivolte del 1968 Michele è esiliato a Londra o quantomeno un suo amico viene arrestato nel corso di una manifestazione di giovani di sinistra e appunto anche Michele era un po' inserito in queste manifestazioni in queste riunioni di partito ecco di sinistra però sempre con una modalità un po' tutta sua è molto molto poco convinta diciamo la verità comunque a un certo punto lui giustifica così il fatto di essersi eclissato di essere andato via da Roma dice sono stato costretto ad andare via perché così come era stato imprigionato il mio amico magari sarei stato ricercato anch'io e allora me ne sono andato via sono scappato a Londra ma continua a mantenersi appunto in contatto epistolare con la madre con le sorelle e con Mara questa ragazza madre che ha con sé un bambino che potrebbe essere diciamo quasi sicuro che sia un bambino che lei ha avuto con Michele quasi sicuro perché lei comunque ai tempi non aveva relazioni solamente con Michele ma anche con altri uomini ecco la vicenda del romanzo anche le vicende insomma quello che capita a questi personaggi è ben poca cosa la trama è diciamo ridotta all'osso io non voglio per il momento anticiparvi la fine di di questo romanzo perché pochi diciamo sono i colpi di scena di questo di questo romanzo all'inizio del romanzo abbiamo una malattia e poi la morte del padre di Michele e poi insomma questo rapporto epistolare Michele che racconta di essersi innamorato di una donna non tanto bella ma intelligente lì a Leeds in Inghilterra e di averla sposata ma poco dopo pochissimo tempo dopo racconta anche di una certa crisi familiare che lo porterà nel giro di pochissimo tempo a lasciarsi a separarsi da questa donna un giorno però puntini di sospensione perché appunto riguarda il finale che per il momento non voglio dirvi non voglio dirvi certamente quindi stavamo dicendo sono anni caldi ci sono le tensioni politiche del tempo ricordiamo che Natalia Ginzburg fu deputata per il partito comunista italiano ma non dobbiamo pensare a questo romanzo come un romanzo politico è un romanzo in cui l'attenzione principale è sui rapporti interpersonali così deboli e labili come ve li stavo iniziando a descrivere quindi della crisi dei rapporti e questo è un po' il cuore del romanzo ecco proprio l'inizio di questo romanzo di Caro Michele una donna che si chiamava Adriana si alzò nella sua casa nuova nevicava quel giorno era il suo compleanno aveva 43 anni la casa era in aperta campagna in distanza si vedeva il paese situato su una collinetta il paese era a 2 km la città era a 15 km essa abitava da 10 giorni in quella casa infilò una vestaglia di velo color tabacco ecco l'inizio l'incipit del romanzo brevemente tratteggiata la madre di Michele una quarantenne a 43 anni mentre Michele è un ventenne che adesso lei insomma va ad abitare poco lontano comunque da Roma cacciò i piedi lunghi e magri in un paio di pantofole color tabacco slabbrate con un bordo di pelo bianco molto frusto e sudicio scese in cucina si fece una tazza di orzo bimbo e cinzuppò diversi biscotti sul tavolo c'erano delle bucce di mela e le radunò in un giornale destinandole a dei conigli che non aveva ancora ma aspettava perché gliele aveva promessi il lattaio la cornice dicevamo è quella di una famiglia comunque abbastanza povera ecco e comunque tutto quello che viene descritto come vedete ha un po' questo sapore un po' dimesso anzi proprio trasandato avete notato le pantofole color tabacco slabbrate con un bordo di pelo bianco molto frusto e sudicio non c'è niente in questo romanzo che indichi un'attenzione una cura una premura un attaccamento anche questo questi aspetti se vogliamo esteriori si rifletteranno anche nei rapporti interpersonali poi andò nel soggiorno spalancò le imposte nello specchio che era dietro il divano salutò e contemplò la sua alta persona i suoi corti e ondulati capelli color del rame la testa piccola e il collo lungo e forte gli occhi verdi larghi e tristi poi sedette alla scrivania e scrisse una lettera al suo unico figlio maschio e così comincia poi appunto la lettera caro Michele che poi vi lascerò leggere così come tutte le lettere di questo lungo romanzo e quindi all'inizio vediamo una lettera di Adriana Adriana Vivanti che è la madre di Michele molte poi sono le lettere di Angelica e di Viola che sono legate insomma affezionate a Michele anche se come vi stavo spiegando comunque non si tratta mai di rapporti così vivi e così accesi ma il personaggio principale quello vi ricordate interpretato da Mariangela Melato nel film omonimo Mara Castorelli è anche quella che insomma scrive di più penso a Michele soprattutto è quella della quale si segue anche l'evoluzione delle vicende una volta legata a Michele Mara Castorelli qualche mese prima mica da tanto col quale ha avuto appunto dei rapporti anche se non sa se il suo bambino l'ha avuto con lui o con un altro che frequentava negli stessi tempi soffre la lontananza di Michele gli scrive molte lettere ecco Mara deve sbarcare il lunario abbiamo detto che è una ragazza madre e non ha un posto fisso non ha un lavoro non ha neanche un'abitazione quindi deve andare a cercare bussare diciamo le porte anche di casa vivanti insomma della della famiglia di Michele ma abbiamo già visto che si tratta comunque di una famiglia molto povera e non può offrire a Mara né un lavoro nemmeno una sistemazione e così poi capita a Mara di trovare un posto di lavoro in una casa editrice e di innamorarsi dell'editore Colarosa quindi del capo di questa casa editrice anche se non è particolarmente bello ha un naso piuttosto pronunciato tanto che lo chiama con un soprannome il pellicano comunque si affeziona a lui è un rapporto che sembra essere un rapporto duraturo ma tutti i rapporti nel romanzo caro Michele si mostrano effimeri e di fatti anche questo rapporto tra Mara Castorelli e questo tale Colarosa nel giro di pochissimo tempo vi è meno così lei comincia una peregrinazione che la porterà a Novi Ligure quindi cittadina del Piemonte se non erro di cui è originaria Mara e addirittura fino a Trapani presso un'altra famiglia di una riccioluta insomma un'altra famiglia di una donna sposata che ha un bambino più o meno della stessa età pochi mesi quindi del bambino di Mara ma anche lì insomma starà per poco perché non riesce ad essere stabile ecco esasperata dicevamo del rapporto con questo tale Colarosa a un certo punto lo lascia lascia Colarosa lascia questo editore viene ospitata dalla riccioluta ma viene cacciata quando è scoperta a fare l'amore nel letto matrimoniale della riccioluta come dire quindi questi due qua la riccioluta e suo marito hanno ospitato a Trapani Mara e lei ne ha approfittato per avere un rapporto d'amore non in uno stanzino ma proprio nel loro letto matrimoniale ecco Colarosa è un tipo abbastanza scuro benché che all'inizio Mara si sia legata a lui poi mano a mano scopre sempre di più la sua meschinità fino a quando appunto decide di lasciarlo il padre di Michele che tra l'altro è interpretato nel film dalla poeta Alfonso Gatto il padre di Michele molto ammalato muore all'inizio del 71 lasciando quasi tutto a Michele probabilmente figlio prediletto tra l'altro gli lascia una torre della quale spesso parlano le sorelle perché se la contendono quasi questa torre vorrebbero prendersela ma poi anche anche questa torre così come tutti i sogni i desideri di questi personaggi che si rivelano molto effimeri diciamo di breve durata si dimostra non un grande affare è abbastanza isolata e difficile da raggiungere e poi c'è tutta una serie di personaggi secondari tra i quali io vorrei sottolineare per esempio le due gemelline chiamate così sono due sorelle minori che hanno circa 14 anni piuttosto scialbe comunque all'interno del romanzo e poi tanti altri personaggi secondari tra i quali emerge Osvaldo il quale è un amico intimo di Michele al punto che le sorelle di Michele addirittura esprimono il dubbio che Osvaldo e Michele siano omosessuali anche se questo dubbio viene smentito dal fatto che come abbiamo visto Michele ha rapporti con donne e si sposa e anche Osvaldo è sposato rimane comunque sempre un po' questa ambiguità questo sospetto questo 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 dubbio ecco facciamo così stiamo per arrivare alla fine del nostro contributo del nostro video e dalla prossima slide si dice come va a finire il romanzo pertanto se voi incuriositi da quello che vi ho detto preferite lasciare qua il nostro video e mettervi alla lettura di questo romanzo di Natalia Ginzburg io non me ne adonto anzi ve lo suggerisco magari potreste tornare qui a rivedere l'ultima parte del video solo dopo aver letto il romanzo altrimenti se siete invece incuriositi e volete sapere subito come va a finire il romanzo passo alla slide successiva io vi ho avvisato ebbene succede una cosa abbastanza bizzarra e poco inspiegabile come tutto quello che riguarda Michele perché tutto quello che riguarda Michele è abbastanza nebuloso e non viene come dire approfondito più di tanto il personaggio di Michele che rimane sullo sfondo perché come vi ho spiegato abbiamo un ritratto direi più chiaro di Mara ad esempio dopo aver letto questo romanzo che non di Michele che pure è il destinatario di tutte queste lettere stavamo dicendo quindi e l'abbiamo detto questo prima che Michele ha lasciato la sua moglie inglese e per un motivo non meglio precisato aveva comunque spiegato in una sua lettera che sarebbe andato a Bruges nel Belgio poi attraverso un'altra lettera la lettera di un di un italiano insomma che Michele aveva conosciuto a Litz e al quale Michele aveva dato l'indirizzo dei suoi familiari le sorelle e anche la madre di Michele vengono a sapere che cosa è successo a Michele brevemente è successo che nel corso di una manifestazione di studenti è stato ucciso Michele accoltellato dai fascisti diciamo quindi dagli estremisti di destra ancora una volta mescolatosi quindi in una manifestazione di sinistra aveva sposato appunto questa inglesina che era anche fervente comunista ecco una delle poche iscritte al partito comunista inglese appunto in Inghilterra la sua ex moglie lui c'era capitato lì però ve l'abbiamo già detto e spiegato prima non è che mostrasse questa grande convinzione nell'aderire a queste manifestazioni sta di fatto che così in una maniera piuttosto imprevista e poco significativa Michele ha perso la vita lasciato lì sulla strada di Bruges a morire da solo e i suoi familiari le sue familiari la mamma le sorelle l'hanno saputo solo un po' di tempo dopo il romanzo comunque non termina a questo punto ma registra ancora alcuni mesi in cui i protagonisti le protagoniste soprattutto abbiamo detto approfondiscono comunque il loro nichilismo e il loro scoraggiamento e vagamente ricompare comunque alla loro memoria Michele come nel brano uno dei brani conclusivi del romanzo che adesso leggeremo che concluderà anche il nostro contributo caro Michele ovvero il requiem della memoria ecco il romanzo potrebbe essere anche una riflessione su qual è il lascito qual è l'eredità che può lasciare un uomo che come abbiamo detto non ha più di tanto impresso un'orma significativa neanche direi nelle persone che più gli sono state vicine leggiamo allora questo brano i ragazzi siamo nella pagina vedete 495 496 del romanzo o comunque insomma una delle pagine finali del romanzo che questo è tra sono pagine anche dell'opera omnia insomma delle opere di Natalia Gainsbourg i ragazzi oggi non hanno memoria e soprattutto non la coltivano e tu sai che anche Michele non aveva memoria o meglio non si piegava mai a respirarla e a coltivarla a coltivare le memorie ci siamo forse ancora tu tua madre e io e Mara che abbiamo come abbiamo spiegato prima Mara Castorelli è anche quella che scrive la maggior parte delle lettere e spesso si rivolge alle sorelle oltre che a Michele adesso che però Michele è morto scrive ad una delle sorelle a coltivare le memorie ci siamo forse ancora tu tua madre Adriana e io tu per temperamento io e forse tua madre per temperamento e perché della nostra vita presente non c'è nulla che valga i luoghi e gli attimi incontrati lungo il percorso ecco vivono di memorie perché la loro vita presente non è così significativa mentre le sorelle poi si sono sposate le sorelle dico non le gemelline no ma le altre due si sono sposate si sono fatte una vita un po' più significativa invece Mara e anche la madre di Michele vivono ormai in solitudine mentre io li vivevo o li guardavo quegli attimi e quei luoghi essi avevano uno straordinario splendore ma perché io sapevo che mi sarei curvato a ricordarli potrebbe essere anche Osvaldo a scrivere questa lettera infatti ci sono delle lettere anche di Osvaldo mi ha sempre addolorato profondamente che Michele non volesse e non potesse conoscere questo splendore e andasse avanti senza mai voltare la testa indietro credo però che lui contemplasse questo splendore dentro di me e tante volte ho pensato che forse mentre moriva egli ha in un lampo conosciuto e percorso tutte le strade della memoria e questo pensiero è per me consolante perché ci si consola con nulla quando non abbiamo più nulla e perfino aver visto in quella cucina quella maglietta cenciosa che non ho raccolto è stata una strana gerida desolata consolazione per me anche Osvaldo è un altro personaggio che ha perso tutto sposatosi poi anche il suo matrimonio è andato in crisi come tutti abbiamo visto quasi tutti i rapporti ad esempio matrimoniali di cui si parla in questo romanzo perché è un po' questo direi l'insegnamento di questo romanzo un romanzo realistico un romanzo che presenta in un modo assolutamente non idillico non idealizzato ma appunto in un modo oserei dire oggettivo il modo di vivere della gente che Natalia ha conosciuto della maggior parte della gente che Natalia ha conosciuto insomma questo romanzo sembra essere la dimostrazione che la vita è fatta di assenza lontananza mancanza come quella appunto di Michele che teoricamente dovrebbe essere il protagonista di questo romanzo ma è il grande assente il grande lontano e poi anche la vita è estremamente banale tra gli esseri viventi tra gli esseri umani prevale l'incomunicabilità gli esseri umani sono quindi profondamente essenzialmente soli e cercano solo disperatamente di mascherare questa solitudine l'incomunicabilità che Pirandello ha espresso in un modo anche altamente ragionativo filosofico eccetera nei romanzi di Natalia Ginzburg viene fuori invece naturalmente da quella che è l'esperienza di tutti noi la storia di tutti noi nei nostri giorni la cosa che ho trovato più impressionante in questo romanzo è che questo dovrebbe essere un romanzo della comunicazione della comunicabilità perché è un romanzo fatto di lettere tuttavia se le lettere non sono un'apertura verso l'altro ma sono un ripiegamento su se stessi in buona sostanza diventano non un mezzo di comunicazione ma proprio lo strumento dell'incomunicabilità altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it